Oggi si prova la Forenduro Forenduro di Kumiana del 3 ottobre Vediamo come sarà Vediamo come Grazie a tutti Grazie a tutti Non ci vedo più niente Ma ce ne sono sicuri? A me sembra che mi hanno aperto una nuova linea Ah lì c'è l'altro pezzo lì Ma sai che è strano sta bici? Spinge? Mi piace un sacco, spinge sempre Sì? Tu mi ricordi? Qua poi a un certo punto c'è un bivodeo Si laggiù c'era il tornantino Vai vai Grazie Grazie a tutti 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 No Ha 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 Ma nienky mмо to A nienky moto città Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.